L'elitto imperfetto della settimana, trama, Vincenzo De Luca vince le primarie e Renzi sta zitto. Lo so che accusare Renzi di non parlare come accusare Mattarella di schiamazzi notturni o Gasparri di eccesso di intelligenza, però è proprio così. Il renziano Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, decaduto, ha vinto le primarie in campagna ed è il candidato governatore per il PD. E lì si prevedeva un forte astensionismo, specie dopo l'appello che aveva lanciato Roberto Saviano a disertare i gazebo. Invece hanno votato in 157 mila erotti e 80 mila circa. Hanno votato per De Luca che ha strabattuto il bassoliniano Andrea Cozzolino con il 52% dei voti. Un plebiscito, anche se un collaboratore del Corriere della Sera è riuscito a votare in quattro seggi diversi nel Salernitano sempre con lo stesso certificato. Bene, dopo questo plebiscito Renzi che cosa fa? Invece di esultare, di complimentarsi, sta zitto, neanche una parolina di congratulazioni al vincitore. Si vergognerà mica di De Luca, no? Altrimenti avrebbe dovuto avvertirlo prima quando De Luca, da D'Alemiano che era, diventò renziano, questa transumanza è c'è stata negli ultimi anni, e gli portò il 97% dei voti dei salernitani alle primarie contro Cuperlo. O quando due mesi fa, da condannato in primo grado per abuso d'ufficio e decaduto da sindaco per la legge Severino, si è candidato alle primarie. Bastava dirgli, no, guarda caro, tu sei fuori perché se poi vieni eletto, appena ti siedi sulla poltrona di governatore, arriva il prefetto e ti dichiara sospeso anche di lì. E anche se ti va bene quel processo, ne hai comunque altri tre. Quindi basta che te ne vada poi male uno e ti becchi un'altra condanna. Non solo, ma in Sardegna Francesca Barraccio voleva candidarsi anche lei a governatrice e Renzi l'ha bloccata non perché avesse una condanna, ma aveva un semplice avviso di garanzia. E soprattutto avrebbero dovuto dirgli, noi del PD, la legge Severino, l'abbiamo voluta e l'abbiamo votata non due secoli fa, ma due anni fa. Quindi statene a casa, caro De Luca. Invece Renzi non gli ha detto niente. Prima sperava di farlo battere da un renziano convertito all'ultima ora, last minute, Gennaro Migliore, che poi si è ritirato all'ultimo anche perché probabilmente non lo votavano nemmeno i parenti stretti. Poi sperava che ci pensasse Cozzolino, il bassoliniano, che alle primarie per il comune, tre anni fa aveva portato ai gazebo tanti di quei cinesi che le primarie erano state annullate. Tra l'altro è un bel messaggio candidare due esponenti della vecchia politica alle primarie. È un po' come dire chi volete Barabba o Barabba? Naturalmente ha vinto De Luca, nonostante Cozzolino, perché per scalfire il suo sistema di potere in campagna non basterebbe tutta la Cina, forse nemmeno tutta l'Asia. Ora, dal giglio magico renziano si fa sapere che Matteo Renzi non se ne importa tanto dei nomi, gli basta vincere, ecco, non conta con chi, però non farà una campagna elettorale sparata per De Luca e questo non è giusto. Se non gli piaceva doveva dirglielo prima, ora è tardi, è anche un po' disonesto, poco sportivo non sostenerlo. De Luca per la verità più che qualche comizio insieme a Renzi gradirebbe un altro tipo di sostegno, una legge che cancelli la legge Severino, perché dice che la Severino è ingiusta. I parlamentari per decadere devono avere una condanna definitiva addirittura sopra i due anni, mentre invece per cacciare gli amministratori locali basta una condanna in primo grado, anche soltanto a un anno, come l'ha avuta lui. E ha ragione, infatti bisognerebbe alzare l'asticella dei parlamentari allo stesso livello degli amministratori locali, non viceversa, invece De Luca naturalmente vuole fare viceversa, tanto prima delle sentenze definitive, lo sappiamo, una bella prescrizione, non si nega a nessuno. Ma c'è anche un piano B, non proprio radere al suolo l'intera Severino. Un deputato fedelissimo di De Luca ha già presentato alla Camera una leggina ad personam, anzi ad De Luca, che esclude dalla decadenza un solo reato, uno a caso, l'abuso d'ufficio. Guarda un po' proprio quello per cui De Luca è stato condannato per avere nominato project manager, così si dice in lingua salernitana, dell'inceneritore di Salerno, il suo capo staff che non aveva i titoli e così ha fatto spendere soldi inutili al comune. Si chiama abuso d'ufficio, ma facciamo finta che De Luca non abbia nessuna condanna, anzi che non abbia nessun processo, che è molto difficile immaginare De Luca senza processi, come immaginare una macchina senza le ruote o una bici senza pedale, ma facciamo finta che non abbia niente. Ecco, De Luca è in politica da più di 30 anni, è entrato nel PC negli anni 70, poi nel PDS, poi nel IDS, poi nel PD, è entrato al comune di Salerno quando negli Stati Uniti c'era ancora George Bush, ma padre, non figlio, e la Russia si chiamava ancora Unione Sovietica, è stato sindaco quattro volte, anche se per legge ne basterebbero due, dopo le prime due volte, che cosa ha fatto? Un intervallo, ed è andato a fare il deputato due volte, poi è tornato a fare il sindaco contro il volere del suo partito che ne aveva candidato un altro, però è rimasto parlamentare anche da sindaco, naturalmente alla Camera ci andava molto poco, pare che fosse addirittura il decimo assenteista su 630 onorevoli. Nel 2010 si è candidato già allora governatore, ma Caldoro l'ha asfaltato, 54% a 43%. Allora lui che cosa ha fatto? Si è consolato ed è tornato sindaco per la quarta volta. Nel 2013 però Enrico Letta l'ha pure nominato sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti. La legge lo vieta il doppio incarico, o fai il sottosegretario o fai il sindaco, ma lui ha della legge un concetto piuttosto elastico e si è tenuto entrambi gli incarichi, come quel film americano Due poltrone per uno. Ecco, quello lui ha fatto. Memorabili riunioni si tenevano nel suo ministero per discutere della imperdibile metropolitana di Salerno, mai più senza la metropolitana di Salerno. Le riunioni si facevano fra il sindaco De Luca e il vice ministro De Luca. Praticamente si guardava allo specchio nel bagno di casa sua e discuteva della metropolitana, che stava a cuore soprattutto a lui, più che ai salernitani, finché a un certo punto per quell'incompatibilità fu dichiarato decaduto da sindaco, dal tribunale, ma dato che la cosa era provvisoria è rimasto sindaco. A quel punto è arrivata la condanna per abuso d'ufficio ed è stato sospeso, però il TAR l'ha reintegrato a sindaco, ma a quel punto è arrivata la sentenza d'appello per l'incompatibilità da sottosegretario, che nel frattempo lui non era più perché era arrivato a Renzi e non l'aveva confermato. E così è decaduto da sindaco, passando da due poltrone a zero praticamente. È un maestro del decadentismo, lui è un decadente perenne, no? E infatti adesso si porta avanti addirittura col lavoro, si candida a una carica dove è addirittura già decaduto prima di essere eletto. Pensate che meraviglia. E attualmente l'altro giorno abbiamo visto che festeggiava con tutti i suoi grandi elettori, soprattutto uno colpiva per una rassomiglianza che ricordava un qualcosa. Stava abbracciando un certo Tommaso Barbato, che era uno dei registri della sua campagna elettorale. Allora uno dice ma non sarà mica quel barbato dell'Udeur che sputò in faccia in pieno senato a un suo collega che votava la fiducia al governo Prodi? Bene, è proprio lui, è proprio lui. Adesso è diventato del PD, dell'Udeur e sostiene il nuovo che avanza in Campania. Però a Renzi, come abbiamo visto, basta vincere, non importa con chi, quindi contento lui, contenti tutti. Una volta nella vecchia politica queste pratiche si chiamavano poltronismo, immobilismo, trasformismo, riciclaggio. Adesso nel nuovo vocabolario politico si chiama rottamazione. Ecco questa rottamazione, infatti De Luca ha dichiarato io sono come Maradona e qui ha ragione. L'avete visto Maradona dopo il lifting? Sembra un sanitario dell'ideal standard, un bidet lucido e smaltato come nuovo. Ecco la rottamazione è così. Bene. L'abuso d'ufficio, guarda un po' proprio quello per cui De Luca è stato condannato per avere nominato project manager, così si dice in lingua salernitana, dell'inceneritore di Salerno, il suo capo staff che non aveva i titoli e così ha fatto spendere soldi inutili al comune. Si chiama abuso d'ufficio. Ma facciamo finta che De Luca non abbia nessuna condanna, anzi che non abbia nessun processo, che è molto difficile immaginare De Luca senza processi, come immaginare una macchina senza le ruote o una bici senza pedale, ma facciamo finta che non abbia niente. Ecco De Luca è in politica da più di 30 anni, è entrato nel PC negli anni 70, poi nel PDS, poi nel IDS, poi nel PD, è entrato al comune di Salerno quando negli Stati Uniti c'era ancora George Bush, ma padre, non figlio, e la Russia si chiamava ancora Unione Sovietica, è stato sindaco quattro volte, anche se per legge ne basterebbero due, dopo le prime due volte, che cosa ha fatto? Un intervallo ed è andato a fare il deputato due volte, poi è tornato a fare il sindaco contro il volere del suo partito che ne aveva candidato un altro, però è rimasto parlamentare anche da sindaco, naturalmente alla Camera ci andava molto poco, pare che fosse addirittura il decimo assenteista su 630 onorevoli. Nel 2010 si è candidato già allora governatore, ma Caldoro l'ha asfaltato, 54% a 43%. Allora lui che cosa ha fatto? Si è consolato e ha detto... Delitto imperfetto della settimana, trama, Vincenzo De Luca vince le primarie e Renzi sta zitto, lo so che accusare Renzi di non parlare come accusare Mattarella di schiamazzi notturni o Gasparri di eccesso di intelligenza, però è proprio così, il renziano Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, decaduto, ha vinto le primarie in campagna ed è il candidato governatore per il PD e lì si prevedeva un forte astensionismo, specie dopo l'appello che aveva lanciato Roberto Saviano a disertare i gazebo, invece hanno votato in 157 mila erotti e 80 mila circa, hanno votato per De Luca che ha strabattuto il bassoliniano Andrea Cozzolino con il 52% dei voti, un plebiscito, anche se un collaboratore del Corriere della Sera è riuscito a votare in quattro seggi diversi nel Salernitano sempre con lo stesso certificato. Bene, dopo questo plebiscito Renzi che cosa fa invece di esultare, di complimentarsi, sta zitto, neanche una parolina di congratulazioni al vincitore, si vergognerà mica di De Luca, no, altrimenti avrebbe dovuto avvertirlo prima quando De Luca, da D'Alemiano che era, diventò renziano, questa transumanza che c'è stata negli ultimi anni e gli portò il 97% dei voti dei salernitani alle primarie contro Cuperlo o quando due mesi fa da condannato in primo grado per abuso d'ufficio e decaduto da sindaco per la legge Severino si è candidato alle primarie. Bastava dirgli no, guarda caro tu sei fuori perché se poi vieni eletto appena ti siedi sulla poltrona di governatore arriva il prefetto e ti dichiara sospeso anche di lì e anche se ti va bene quel processo ne hai comunque altri tre, quindi basta che te ne vada poi male uno e ti becchi un'altra condanna. Non solo ma in Sardegna Francesca Barraccio voleva candidarsi anche lei a governatrice e Renzi l'ha bloccata non perché avesse una condanna ma aveva un semplice avviso di garanzia e soprattutto avrebbero dovuto dirgli noi del PD la legge Severino l'abbiamo voluta e l'abbiamo votata non due secoli fa ma due anni fa quindi statene a casa caro De Luca e invece Renzi non gli ha detto niente. Prima sperava di farlo battere da un renziano convertito all'ultima ora, last minute, Gennaro Migliore che poi si è ritirato all'ultimo anche perché probabilmente non lo votavano nemmeno i parenti stretti, poi sperava che ci pensasse Cozzolino il bassoliniano che alle primarie per il comune tre anni fa aveva portato ai gazebo tanti di quei cinesi che le primarie erano state annullate. Tra l'altro è un bel messaggio candidare due esponenti della vecchia politica alle primarie, un po' come dire chi volete Barabba o Barabba naturalmente ha vinto De Luca nonostante Cozzolino perché per scalfire il suo sistema di potere in campagna non basterebbe tutta la Cina, forse nemmeno tutta l'Asia. Ora dal giglio magico renziano si fa sapere che Matteo Renzi non se ne importa tanto dei nomi, gli basta vincere ecco non conta con chi, però non farà una campagna elettorale sparata per De Luca e questo non è giusto, se non gli piaceva doveva dirglielo prima, ora è tardi è anche un po' disonesto, poco sportivo non sostenerlo. De Luca per la verità più che qualche comizio insieme a Renzi gradirebbe un altro tipo di sostegno, una legge che cancelli la legge Severino perché dice che la Severino è ingiusta, i parlamentari per decadere devono avere una condanna definitiva addirittura sopra i due anni mentre invece per cacciare gli amministratori locali basta una condanna in primo grado anche soltanto a un anno come l'ha avuta lui e ha ragione, infatti bisognerebbe alzare l'asticella dei parlamentari allo stesso livello degli amministratori locali, non viceversa invece De Luca naturalmente vuole fare viceversa, tanto prima delle sentenze definitive, lo sappiamo, una bella prescrizione, non si nega a nessuno. Ma c'è anche un piano B, non proprio radere al suolo l'intera Severino, un deputato fedelissimo di De Luca ha già presentato alla Camera una leggina ad personam, anzi ad De Lucam, che esclude dalla decadenza un solo reato, uno a caso, tornato sindaco per la quarta volta. Nel 2013 però Enrico Letta l'ha pure nominato sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti, la legge lo vieta il doppio incarico, o fa il sottosegretario o fa il sindaco, ma lui ha della legge un concetto piuttosto elastico e si è tenuto entrambi gli incarichi, come quel film americano due poltrone per uno, ecco quello lui ha fatto. Memorabili riunioni si tenevano nel suo ministero per discutere della imperdibile metropolitana di Salerno, mai più senza la metropolitana di Salerno, le riunioni si facevano fra il sindaco De Luca e il vice ministro De Luca, praticamente si guardava allo specchio nel bagno di casa sua e discuteva della metropolitana che stava a cuore soprattutto a lui più che ai salernitani, finché a un certo punto per quell'incompatibilità fu dichiarato decaduto da sindaco dal tribunale, ma dato che la cosa era provvisoria è rimasto sindaco, a quel punto è arrivata la condanna per abuso d'ufficio ed è stato sospeso, però il TAR l'ha reintegrato a sindaco, ma a quel punto è arrivata la sentenza d'appello per l'incompatibilità da sottosegretario, che nel frattempo lui non era più perché era arrivato Renzi e non l'aveva confermato e così è decaduto da sindaco, passando da due poltrone a zero, praticamente, è un maestro del decadentismo, lui è un decadente perenne, no? E infatti adesso si porta avanti addirittura con la voce.